... Keita, di forza, si libera la grande, Keita, cross di Keita, prova a salire in aria, e c'è il guardo di Pagliari, bello il cross, ottima conclusione. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace, la traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio, si riparte con un fallo laterale, attenzione, il Cagliari a calcio di punizione, ci sono buoni tiratori, hanno molte opportunità, vediamo chi calcia, sta prendendo la rincorsa, Chris Aneriksen, E il gol è stato negato da un'incredibile parata. Ha intuito perfettamente la traiettoria della palla, gran bella parata. Danise Baioz, Andrea Sperera, Kim Pemberg recupera palla, Chris Aneriksen, Cristiano Ronaldo. E' la cosa logica da fare a questo punto della partita, dare un giro di vite in fase di contenimento e limitare i danni. Wings, mostrano un buon controllo del gioco, arriva Christian Eriksen, grande occasione, c'è spazio, deviazione dell'esterno difensore. Cristiano Ronaldo si prepara in mezzo all'area, per uno specialista dei colpi di testa come lui, questi calci d'angolo rappresentano sempre un... Incornata! Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. La conclusione è uscita, peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Benazer, Keita, Christian Eriksen, allarga il gioco con pallone a sinistra. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Prova il compagno, occhio alla conclusione! E hanno sfiorato il gol. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Cristiano Ronaldo, ciò con una palla lunga. A sinistra con il passaggio. La sfera oltrepassa la linea, sarà rimessa. Errore qui, pallone sprecato. Christian Eriksen. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Provano a partire in velocità. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Kimpembe. Wings. Palla in avanti, verso il compagno. Arriva Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Aveva pescato magnificamente il compagno. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Tocco preciso. Prova a te. È un grande ripeso qui. Si esprime in un buon intervento. Non c'è che dire. Il portiere è rimasto lucido e ha reggito bene. Allontana la minaccia. Cristiano Ronaldo. Keita. Ottima pressione la sua. Palla ridoperata. Ottiene un buon calcio di punizione. La gioco è in profondità. Cristiano Eriksen. Ahiai. Stanno correndo rischi davvero inutili. Ballone lungo in verticale. E la palla finisce al portiere. Chimpembe. Prevale. Recupera palla. Passaggio in avanti nello spazio. Cagliari. Si salva in questa occasione. Quando sei in inferiorità numerica devi essere deciso. Non puoi pensarci troppo. Non sono ammesse esitazioni. È stato veramente bravo. E ha evitato un gol quasi certo. Parato di Roma. Si chiude il primo tempo con questa buona occasione. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sciola rete messa a segno finora. Ma la partita è ancora lunga. Devono continuare a credere in se stessi. Insistere nel loro modo di giocare. Così possono ribaltare la situazione. Inizia adesso il secondo tempo. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scritto. Cristiano Ronaldo. Questa adesso è una serie ipoteta sulla partita. Sono stati uniti duramente per quella palla persa in mezzo al campo. Gli avversari hanno intercettato. Sono ripartiti immediatamente. E sono andati a segnare. Una ripartenza perfetta. 2-0 dunque. Hanno la partita in mano, non c'è dubbio. Possono gestire il risultato e far scorrere il tempo. Di Maria. E trova bene il compagno. Guadagna metri. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Cerca un'azione veloce. Bella parata di Ter Stegen. Grande parata dell'estremo difensore. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno si accompagna. Trova la verticalizzazione. E trova il compagno. Andrea Spereira. Ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone. Ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. E questo è un passaggio quantomeno discutibile. La sua città è un passaggio. E questo è un passaggio. Se vogliono cambiare la partita lo devono fare adesso Devono trovare subito il gol per ridurre lo svantaggio e poi continuare a spingere Magari non riusciranno comunque a ribaltare il risultato finale Ha una palla d'oro tra i piedi, c'è Tio La sua conclusione manca allo specchio della porta Una manovra offensiva impeccabile Fabio, per impegno e tecnica Questo contropiede meritava un esito migliore Di Maria E anche stavolta niente di Fabio, impegno Lo spazio a Prata si propone spesso in avanti in cerca del gol Vediamo se riusciranno a capitalizzare le occasioni che creano L'azione si stava facendo pericolosa ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo Sicuro in fase di palleggio e c'è un bel pallone in avanti Christian Eriksen non riesce a servire il compagno Buona l'intenzione del passaggio ma non l'ha calibrato bene E per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione Wings Ecco Keita Sbattono ancora contro la difesa Wings Da lì può concludere Qui deve tirare Fuori di poco sfortunati qui Ha forzato il tiro Sicuramente poteva trovare soluzioni più efficaci con l'aiuto dei compagni Auci Garth A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati Keita La mette in avanti Riceve in ottima posizione Rimane il portiere Cerca la rete Scodella in avanti Qui può partire il contropiede Ci mette il fisico e conquista il pallone E potrebbe essere un'azione importante Difesa però ben posizionata Cerca la profondità L'arbitro interrompe l'azione